e salve simmers io sono marichelle e oggi siamo in the sims 4 let's play il nuovo let's play con i nostri nuovissimi protagonisti mark e nancy o non vedevo l'ora di entrare nel vivo del gioco perché nella prima puntata li abbiamo soltanto creati poi li abbiamo trasferiti però senza casa praticamente avevano una casetta molto molto scrausa così ho deciso di scaricarne una intanto per adesso a mia scelta ovviamente sono rimasta nel budget infatti sono rimasti senza soldi questa casettina costava meno di 20.000 simoleon però è veramente molto molto carina infatti adesso ve la farò vedere e ho iniziato anche a giocare quindi andremo a vedere un attimo i caratteri dei personaggi perché sono veramente molto diversi tra loro tra l'altro loro vi ricordo non sono fidanzati né niente sono soltanto due amici inquilini che sono andati a vivere insieme perché non avevano tanti soldi da parte quindi per poterci permettere una casa questi due amiconi sono andati a vivere assieme ma hanno caratteri veramente molto diversi quindi ne vedremo delle belle vi ricordo anche che questa non è una miniserie ma è un nome normalissimo let's play in cui giocheremo molto tranquillamente e non lo so spero vi piaccia quindi lasciatemi sempre tanti commenti per farmi capire se vi sta piacendo oppure no e vediamo un attimo la casa la casa non l'ho fatta io ma la sistemerò poi con voi soprattutto quando inizieremo ad avere dei soldini quindi poi la modificheremo insomma la sistemeremo ma per adesso è molto carina la casa che ho scaricato devo dire quindi per adesso è un po' anonima perché non è fatta da me però comunque mi piace nel complesso mi piace qui c'è il cucinino piccolino piccolino però molto molto funzionale mi piace un sacco ed è super utile al nostro Mark che ha iniziato la carriera di cuoco lui è un cuoco ma è anche pigro tanto vedete che già si sta impigrendo mangiando questo tramezzino al formaggio chissà se non gli verrà magari l'aspirazione anche per il tramezzino poi appunto qui c'è il tavolino da pranzo che direi che è tutto piccolo ma messo veramente bene complimenti a chi l'ha fatta e qui c'è il divanetto con una bella tv mi piace veramente un sacco c'è addirittura un quadro qua sopra però un quadretto potrebbe farlo anche la nostra Nancy visto che ha iniziato la carriera e la nostra Nancy è qua la carriera freelancer di artista quindi lei è un artista digitale però ovviamente sviluppa l'abilità di pittura anche insomma su cavalletto quindi potrebbe fare qualche bel dipinto e infatti qui da Nancy qui c'è la porta c'è la camera eccola qua la cameretta ho messo due letti separati ovviamente perché non c'è nessuna relazione romantica tra i due quindi due lettini separati ho aggiunto io questa vasca per il criceto che in realtà non è un criceto ma è tipo un riccio poi qui di fianco c'è una classica cassettiera che ci sta un po' di specchi che allargano appunto l'ambiente questi c'erano già ho cambiato appunto solo i letti diciamo e giusto giusto appunto ho messo il nostro chiamiamolo cricettino anche se è un riccio ma mi piace chiamarlo cricettino comunque e qui c'è il bagno molto molto funzionale ma i soldi erano pochi quindi la casa era questa ma direi che è più che abbastanza lei nel suo inventario ha tutto lo corrente perché abbiamo il computer e un tablet di quelli appunto da disegno questo qui che appunto adesso dovrà usare molto dovremmo sceglierle adesso un incarico perché appunto il suo lavoro non lei non va appunto proprio al lavoro ma deve scegliere gli ingaggi guardate quanti ci sarà da divertirsi e se lei è una gran lavoratrice non si può dire lo stesso di lui o meglio sì è un bravo cuoco ma come tratti se vi ricordate se avete visto la creazione dei nostri sim è anche molto molto pigro eccolo qua allora questo era lei e questo è lui buongustaio romantico pigro e senza del sapore perché appunto ha scelto la carriera di cuoco mentre lei è sicura odia i bambini perfezionista e veloce a imparare quindi il fatto anche che odi i bambini e che lui sia romantico fa pensare che comunque probabilmente non andranno molto d'accordo perché lui lo vedo già molto più portato per la famiglia mentre lei assolutamente no e infatti se adesso lui sta pensando già a rilassarsi al mare perché vi ricordo che questa è la nostra famiglia un po' tropicale che la manderemo sicuramente in vacanza e se uscirà il pack del mare sarà la famiglia più adatta in assoluto quindi lui sta già pensando a rilassarsi nella piscinetta fuori casa che avrete notato perché non potevano permettersi di più e infatti vai qui e sdraiati nonostante manchino tre ore al lavoro ma lui per adesso non vuole più cucinare è stanco, si è sforzato abbastanza, ha già completato, gli ho fatto completare l'incarico di preparare bevande e tutto il resto e quindi non vede l'ora di rilassarsi e sicuramente sarà lui nonostante sia pigro a dover fare le faccende di casa perché lei è molto concentrata sul lavoro e adesso sta pensando a quale ingaggio scegliere direi che lo scegliamo assieme il suo ingaggio e vediamo un po' cosa può fare di carino allora ci sono tante tante cose intanto lei è a livello 2 di pittura, l'ho fatta un pochettino avanzare c'è l'icona perfetta per l'app abbiamo sviluppato l'unica app per cellulari di cui avrai mai bisogno certo è una dichiarazione forte ma siamo sicuri fino a questo punto quindi questa è un'icona per app ritratto per i posteri, molto carino sono un facoltoso ottugenario che vive una crisi di tarda età ho bisogno di un pittore che cattura il mio aspetto nell'ospicio che le generazioni future della mia famiglia abbiano qualcosa di cui ricordarmi non leggo tutto ma più o meno ci capiamo è molto carino io direi che sono indecisa potremmo fare ritratto per i posteri, mi piace un sacco livello 1 di pittura, lei ci sta benissimo si prepara per lavorare quindi cambiati di abito metti gli abiti quotidiani che ragazzi vi avete detto che sono abiti trasandati almeno uno di voi mi ha detto che è trasandata ma secondo me è originale cioè io vi dicevo che non mi convinceva perché non sono abituata però guardandola in realtà mi piace anche quindi fatemi sapere cioè fatemi sapere in più persone ecco comunque sia dobbiamo studiare le immagini di riferimento col computer dipingere un ritratto sull'album schizzi perché ricordiamoci che dobbiamo fare un ritratto per i posteri e far approvare il ritratto quindi mettiti subito al lavoro lei vuole lavorare perché lei adora lavorare infatti lei non farà le pulizie di casa a lei non interessa lei pensa solo a se stessa e infatti questo secondo me potrebbe creare parecchi parecchi attriti con il nostro Mark che è molto pigro però comunque ama avere la casa pulita è un cuoco e quindi si ritroverà a fare tutto lui anche se ancora non lo sa secondo me non andranno molto d'accordo per ora sono amici ma non hanno mai vissuto assieme quindi eh sono caratteri comunque molto incompatibili sono caratteri molto incompatibili tra l'altro lui sta già pensando alla spa sta pensando appena torno da lavoro quasi quasi ne approfitto per andare alla spa ho messo una spa bellissima a Dosis Springs e ci andremo deve anche andare al bagno quindi ah no lei deve andare al bagno quindi vacci lui sta benissimo tra poco al lavoro super rilassato ma lei ha già lasciato un piatto in cucina e intanto fa una bella ricerca di lavoro sarà sicuramente quella che guadagnerà di più ma sarà al tempo stesso quella che lascerà più caos in casa ok ha finito di studiare l'immagine ma è molto tesa evidentemente il lavoro non sta andando molto bene perché forse un'immagine difficile istruzioni oscure per aver studiato le istruzioni il documento di progettazione del cliente non è stato di grande aiuto il solo numero di casi limite che Nancy deve considerare è da incubo vabbè non le resta altra scelta che fare del suo meglio adesso lei deve fare un ritratto e è molto tesa però le verrà malissimo quindi prova a calmarti cerca di calmarti perché rischi di fare veramente una schifezza vieni qui vai al bagno vieni qui e poi calmati mia cara calmati mi raccomando guardate com'è tesa lei ci tiene veramente tanto al lavoro lui ora ecco mancano otto minuti quindi otto secondi per noi e deve andare a lavoro quindi forza alzati dovrebbe andare al bagno ma ci andrai a lavoro preparati fai l'uomo serio perché ormai sei un cuoco bravissimo sta andando felice e non sa non sa che la convivenza sarà complicata ok a lei sta passando pian pianino lo stato teso avanti forza rilassati che appena ti passa devi lavorare perfetto la vedo già felice sei pronta facciamo questo dipinto freelance ritratto sì mi sembra che debba fare un ritratto se non sbaglio dipinge un ritratto avanti vediamo cosa ci combina la signorina magari potresti metterti sul divano abbiamo una casa comunque bella per essere all'inizio poi ne sceglieremo una assieme come vi avevo promesso e sicuramente la modificheremo faremo però intanto ti siedi qui siediti e mi raccomando poi bisognerà andare a mangiare anche il nostro cricettino vediamo se è andato a cibo sì bisogna coccolarlo guarda che carino si sta oh bisogna parlarci guardatelo bellissimo vediamo lei intanto come se la cava eh il ritratto sta venendo benino dipende chi deve ritrarre però secondo me potrebbe già essere buono ricordiamoci che lei è tipo a livello 2 di pittura quindi ci può stare adesso vi faccio vedere un po' i vari livelli allora livello no 3 di pittura cucina 1 comicità 1 carisma 1 quindi dai tu mi raccomando lo so che ti stanchi subito ma lavora sodo Mark lui è a cucina 3 giardinaggio 1 sì perché ha voluto piantare era il suo desiderio piantare questa carisma 1 e comicità 1 sì lei ha finito vediamo un po' com'è venuto il ritratto lo appendiamo un secondo beh insomma allora normale proviamo a inviarlo proviamo invia approvato bravissima è esattamente ciò che stavamo cercando ottimo lavoro Nancy continua così Nancy presenta quel che si potrebbe descrivere solo come una sborditiva raffigurazione del cliente del quale si dice sia stato talmente soddisfatto dell'opera da saltare fuori dal letto dal letto di morte per ballare uno non so come si legga improvvisato accontentare un octogenario ai suoi vantaggi il cliente ha incluso una gratifica per l'ottimo lavoro svolto addirittura cioè ha fatto un disegno senza manco colori niente però però il cliente è soddisfatto quindi noi siamo felici vai a giocare col cricettino col cricettino vabbè col procione eh col riccio scusate vabbè cricetto per noi rimane cricetto avanti e scegliamo ovviamente un altro ingaggio parla chiede i riduritori le facciamo fare amicizia dai almeno col cricetto non voglio che muoia di fame chiede la sua giornata io adoro ragazzi il pack lo so che sono l'unica al mondo però mi piace un sacco il pack il mio primo animale mi piace veramente tanto ok scegliamo un ingaggio allora nuovo ingaggio l'icona perfetta per l'app quello che avevamo visto prima chiacchiera con il cliente ah usa un computer per chiacchierare con il cliente di nancy si trova una cattura di nancy oh molto interessante questo io ragazzi di questo lavoro non avevo fatto quasi niente per conto mio soprattutto nell'ambito artistico freelance chiacchiera con il cliente speriamo che sia una bella chiacchierata e che la ispiri magari troviamo un cliente simpatico o magari no non lo sappiamo poi dobbiamo creare icone sull'album schizzi e far approvare le icone poi io ragazzi vi farò dei tagli e poi alla sera sia lei che lui sia lei che Mark andranno alla spa perché comunque una cosa in comune ce l'hanno loro due il fatto di amare le vacanze e il mare e infatti speriamo che il mare venga giunto presto però vacanze relax e cose così le adorano tutte e due lei si è lavoratrice ma ama anche nuotare fare yoga quindi questa cosa ce l'hanno in comune vorrebbe anche inviare un sms giocoso magari per adesso che ci va d'accordo lo manda proprio a Mark l'sms giocoso e gli dice che sta andando tutto bene intanto qua hanno conosciuto Johnny Zest perché è il vicino Mark Tropical chissà magari se farà conoscenza del vicino lei e lei è tutta contenta gli manda un bel sms anche se lui è lavoro gli dice oh mi sto divertendo tantissimo uh ciao ti contatto per conto di Sani come pesci sì sì ci vogliono regalare ragazzi le cuffiette bellissimo ok certo che sì abbiamo gli auricolari e li hanno mandati proprio a Mark ci piace oh lei è contentissima visione condivisa è andata d'accordo col cliente non sempre è facile andare d'accordo con una persona appena conosciuta ma a volte l'intesa è istantanea questo progetto ha enorme potenziale lei è ispirata ragazzi quindi non vedo l'ora creiamo icone per spizzi icone 50 simoleon che saranno ben spesi intanto sto guardando qui fuori c'è gente da conoscere i vicini che parlano guardate qua chissà se lei pur non amando i bambini però amare i bambini non è una cosa ma potrebbe comunque innamorarsi di qualcuno chissà chissà secondo me quel vicino invece non andrà molto d'accordo approvato oh è esattamente ciò che stavamo cercando ottimo lavoro Nancy continua così perfetto io direi che lei potrebbe andare a prendersi una buonissima limonata e a mangiare qualcosa ovviamente lei ne approfitta per farsi quattro passi e guardate per avere anche un bel panorama tanto qui c'è caldo siamo a Osis Springs quindi ci sta facciamo ordina del cibo prima di tutto perché ha fame perfetto al cioccolato alla vaniglia patatine fritte vaniglia avanti e poi anche una bella limonata vai 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 si è messa agli abiti per il caldo anche lei sta pensando alla spa e infatti appena tornerà a Mark si metteranno d'accordo e ci andranno anche perché hanno appena aperto una nuova spa a Osis Springs come vi ho detto prima e quindi ci sta e anche una buona limonata grazie una limonata fresca fresca ed eccola qui bravissima prendi uh c'era anche un'altra un'altra limonata qua ma non era nostra oh benissimo brava vai a sederti limonata hyper fruit di frutta alla vaniglia e lei si vizia si vizia ma è molto molto disordinata creerà danni e guardate mangia con un bel panorama perché è un panorama desertico ma direi molto bello sì da fotografia comunque mi piace mi piace un sacco le si fa una bella doccia adesso canta intanto il piatto sul tavolo ovviamente puzza guardate come puzza e e e e sorpresina per Mark appena torna ha lasciato tutto disordine guardate ha lasciato qui il suo tablet il computer e e e e si vizia male ed ecco Mark che è tornato a casa stressato dal lavoro guardate com'è stressato pensa di rientrare in casa e trovare tutti in ordine ma non è così e contate che lui è anche pigro non vede l'ora di rilassarsi uh vorrebbe urlare parole proibite magari lo facciamo pure fare perché lui comunque è abbastanza impulsivo urla avanti sfogati oh vai qui in casa e vedi il caos che ha lasciato la tua amica Nancy tanto lei tranquilla si è fatta la doccia guardatela qua bella rilassata va a parlare col cricettino parla e lui oh si è accorto dello schifo ripulisci però vabbè pensa avrà avuto da fare per questa volta non è arrabbiato è tranquillo sereno dice vabbè sicuramente ha avuto molto da lavorare anche lui ha bisogno di un bagno infatti fate una doccetta perché si va poi alla spa quindi poi vi parlate e andate alla spa intanto lei molto comodamente fa zapping con la tv lui non le dice niente l'ha salutata però molto tranquillo intanto lei si è rimessa anche un attimo a lavorare perché ho visto che deve creare altri schizzi quindi forza crea deve crearne tre vabbè ma tanto appena lui finisce la doccia andiamo comunque facciamo a provare anche questo vediamo un attimo com'è questo dipinto questo sì che è bello normale mi piace di più questo inviamolo al cliente il lavoro non soddisfa i nostri requisiti qualitativi bisogna modificarlo vabbè per adesso lasciamo stare intanto lei si guardano gli chiede la sua giornata e gli racconta appunto come è andata guardate e intanto si mettono d'accordo per andare alla spa che ne dici usciamo beh perché no e si raccontano un po' la giornata lui non dice niente per il piatto perché tanto è un caso giusto e vanno e partono eccola qui a Oasis Springs sempre e l'ho sempre scaricata perché vabbè io le spano ragazzi non le faccio quelle no perché ci metterebbe la vita la casa anche sì ma la spa no pace e tranquillità brezza tonificante aspetto solare e andiamo con Marco ovviamente e finalmente come si erano messi d'accordo vanno e si rilassano e per adesso la vita diciamo da coinquilini procede abbastanza tranquillamente c'è stato un piccolo intoppo lei si è un pochettino ha lasciato un po' di caos ma per adesso niente di che volevo quasi quasi aggiungere anche una bella lavatrice così ne approfittiamo per lasciare i panni sporchi in casa che ne dite ed ecco qui la spa che ho scaricato dovreste aver visto il nome prima mentre appunto la indicavo e la vediamo un po' assieme allora scendiamo di un piano questo è il piano di sopra qui abbiamo il bar qui possiamo prendere qualcosa da mangiare o meglio mettere qualcosa da mangiare qui anche qui ci possiamo rilassare fare yoga che bello qui ci sono tipo gli spogliatoi le docce qui ci si può allenare è bellissima bellissima poi ci sono le palme fuori è super adatta per osis anche qui anche qui è bello sedersi secondo me e dovrebbe esserci la piscinetta eccola lì guardate li mandiamo subito a nuotare qui ci sono altri bagni altre docce ci piace qui c'è la zona massaggi molto bello anche qui massaggi ai piedi alle mani molto molto bello altri figuriferi altre zone per meditare altri bagni perfetto io direi che come prima cosa sto pensando se mandarli no prima li mandiamo qui esegui una sessione di yoga esercitati voglio che si esercitino perché ne avranno bisogno poi capirete più avanti perché avranno bisogno dello yoga però per adesso voglio che aumentino un pochino di livello appunto nello yoga guardate lui che bello con questo berrettino cioè no vabbè sono fantastici vabbè così mi piacciono molto in tenuta sportiva sono veramente carini e fanno yoga assieme poi è bellissimo con le candeline così e questo dipinto gigante super orientale guardateli qua sono bellissimi da vedere gli spogliatoi sono condivisi quindi direi che potrebbero mettersi indossa a cappatoio e anche tu indossa a cappatoio lui ha anche un po' di fame giustamente è tornato a casa non ha mangiato niente quindi magari finché lei va a rilassarsi magari nella jacuzzi lui potrebbe ordinare del cibo e prendersi tipo delle fish and chips così si rilassa per bene tra l'altro lui essendo pigro adora queste cose guardate guardate com'è bello rilassato e lei anche lei adora queste cose non è pigra però le adora anche lei tu intanto vai guardate quanta gente qui vai nella jacuzzi entra e aspetta lui guardatela qua bella rilassata oh brava e aspetta lui intanto sta mangiando qualcosa oh e pensa che bella giornata che bella la convivenza ha fatto proprio bene a decidere di essere inquilino della mia migliore amica sono proprio felice eccolo sta arrivando anche lui si mette bello comodo oh qui e qui possono parlare un po' e lui decide di dirle che comunque ha notato i piatti sporchi quindi impara a conoscere facciamo appunto finta che glielo dica chiaramente però glielo dice in modo molto tranquillo gli dice ah c'era della spazzatura vedete che sta parlando spazzatura che è lasciato in giro e lei ah si però lei vabbè è molto tranquilla dice ah si si me ne sono dimenticata però fa un po' la disinteressata lui no per comportamento è un pochettino contrito se notate però vabbè dice insomma avrà avuto da fare intanto facciamo un paio di foto lei gli spiega che comunque lei ha molto da lavorare e che quindi non ha molto tempo per fare le pulizie e non ama neanche tanto fare le pulizie però glielo dice in modo molto tranquillo magari starò più attenta e via e lui vabbè dice ecco tanto sono stanco quindi ok che ne dice se facciamo un bagno dice lei e quindi nuotate qui assieme avanti guardate lui che va sott'acqua bravo stai attento ha un po' di sonno ma una nuotatina ci può stare magari un po' di vasche allora fai delle vasche e anche tu fai delle vasche e ragazzi vorrei anche che mi deste dei consigli per il calendario cosa potremmo aggiungere queste cose erano già diciamo impostate normalmente dal dal gioco però se avete qualche idea potremmo metterla io per esempio qui metterei una bella festa tipo tipo in zona tipo mare anche se il mare non c'è ma ci inventiamo qualcosa comunque una festa estiva per capirci no una festa estiva loro nuotano sicuramente stanno pensando che torneranno in questa spa adesso noi torniamo a casa perché comunque loro sono rilassati sono stati bene tutto quanto poi lui è molto stanco non vede l'ora di dormire e per un pigro dormire è tutto lei deve finire di lavorare e poi chiudiamo la puntata quindi direi di andare forza uscite fa caldissimo fuori anche se ormai guardate è notte praticamente infatti anche questo stand diciamo ha chiuso questa bancarella e se ne vanno mi piace molto molto questa zona perché è una zona abbastanza ricca vedete per i ricconi chissà se loro un giorno arriveranno ad essere un po' ricchi però può essere che appunto poi si separeranno perché sono pur sempre solo amici quindi magari ognuno andrà a vivere per conto suo non lo sappiamo quindi vediamo perché comunque lei non è propensa a crearci una famiglia lei interessa il lavoro mentre lui alla fine è un romantico siamo a casa e guardate qui chi c'è c'è la vampire interessa lilith ovviamente lei non sa chi sia no volevo farla parlare mannaggia volevo farla presentare volevo creare un po' di guai ma li creeremo lei deve finire il suo lavoro quindi freelance icono no aspettate modifichiamo il ritratto rifiutato che secondo me vabbè in effetti non è un ritratto più che altro vai provaci anche se sei stanchissima vediamo se ce la fa al limite la mandiamo a dormire tanto lei non ha comunque degli orari specifici comunque lei è indipendente guardate che bello questo questo tablè bellissimo ah lui ovviamente è a dormire eccolo qua era stanchissimo anche lei è stanchissima però come vi ho detto è molto dedita al lavoro quindi anche quando è stanca lei tende a lavorare lo stesso a dedicarsi in continuazione al suo lavoro non mi sembra che stia facendo grandi modifiche ragazzi non lo so secondo me ne rifiuteranno anche questo lavoro qui infatti si butterà poi a letto e proverà domani mattina ovviamente non si degnerà né di farla mangiare né niente ma aspetterà che cucini lui visto che lui è il fuoco chissà lui quando inizierà a seccarsi della situazione vabbè che lui deve farlo anche per lavoro però però non so quanto gli possa far piacere intanto come sta il nostro cricettino vediamo un attimo se ci fa danni no è ok perfetto ah lei si buttata a letto direttamente così si aveva bisogno di dormire ragazzi però penso che abbia finito di lavorare e possiamo inviarlo al cliente invia il cliente alzati un attimo vediamo se lo accetta no 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 non soddisfa dormi ancora quello che fa ah lui va a lavorare ragazzi doveva già lavorare eh sì ha perso tempo ieri eh non ha fatto i compiti a casa ma va bene lei si è rimessa a dormire e direi che noi possiamo chiudere qui la puntata secondo me adesso lei ha molta fame quindi magari chissà magari potrebbe anche provare a cucinare qualcosa ma potrebbe fare dei danni o lasciare molto sporco in casa oppure potrebbe andare a prendersi del cibo da sporto e poi lasciare tutto tutto un caos tutto un caos prevedo pian pianino sempre più guai ovviamente ho in mente tante tante cose per loro quindi tenetevi sottolineizzati intanto mi raccomando nei commenti lasciatemi pure consigli idee come volete perché i commenti sono sempre belli da leggere vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao